Ciao a tutti amici, bentornati su Pensioni Italia, il canale numero uno in Italia che vi tiene sempre aggiornati su pensioni, bonus e sussidi. Notizia dell'ultima ora, nuovi aumenti in arrivo sulle pensioni. Come sappiamo, la rivalutazione è stata fissata a una percentuale provvisoria del 7,3%, ovvero il valore medio dell'inflazione a novembre 2022. A inizio gennaio però è stato ricalcolato il livello attuale dell'inflazione da parte dell'Istat, che risulta essere altro rispetto al calcolo di novembre scorso. Andiamo ad analizzare la situazione e vedere che procedure prenderà il governo. Ma prima, come sempre amici, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, mettere like al video e per ultima cosa iscriverti anche al nostro nuovo canale Telegram. Dunque, in questi giorni l'Istat ha reso noto il valore medio dell'inflazione attuale. Risulta essere dell'8,1%, quindi l'aumento delle pensioni al 7,3% risulta essere troppo basso per far fronte almeno all'inflazione. I prezzi continuano ad aumentare anche per i beni di prima necessità e i pensionati, come sappiamo, sono sempre più in difficoltà. C'è possibile soluzione di cui si sta discutendo, purtroppo sembra non sarà ufficializzata nel breve periodo, però. Questa soluzione in breve sarebbe che, a inizio 2024, ci sarà un ricalcolo al livello medio di inflazione del 2023 e un conguaglio con ciò che sarà dovuto nel primo assegno del 2024 o l'ultimo del 2023. Bene amici, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Anche per questo video è tutto. Vi ricordo inoltre di lasciare un like al video e di correre a iscrivervi al nostro nuovissimo canale Telegram. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video! Ciao amici, ci vediamo al prossimo video!